Ciao, in questo video parliamo di tutte le cose che secondo me dovresti conoscere se stai aprendo o se hai aperto da poco un canale YouTube. Ci approccieremo al discorso della crescita su YouTube senza parlarne direttamente. Quello che andremo a cercare di capire realmente è come funziona YouTube, quali sono le dinamiche e come funziona l'algoritmo, non quali sono i trucchetti. I trucchetti, che poi i trucchetti non sono perché sono segreti di Pulcinella, li conoscono tutti, sono delle conseguenze di come funziona l'algoritmo. Conoscere l'algoritmo e conoscere le dinamiche ti dà la possibilità di approcciarti in un modo più scientifico alla crescita e ti dà la possibilità di capire qual è il reale andamento nel tuo canale e quali sono le cose che devi fare affinché il tuo canale inizi a crescere veramente. Ho parlato con decine e decine di YouTuber molto più grandi di me, anche perché altrimenti non starei facendo questo video visto che io ho quattro iscritti in croce e quindi non avrebbe senso. Ed ho analizzato la crescita di un sacco di canali per capire quali fossero effettivamente i motivi delle crescite e quale fosse l'andamento della crescita. E ho notato che per tutti quanti i canali la storia è più o meno sempre la stessa. C'è una crescita costante, lenta e da un certo punto cominciano ad esserci dei grandissimi sbalzi che possono avvenire o a livello di canale o a livello di video. Per questo se parli con tanti YouTuber che hanno magari anche tanti iscritti ti diranno tutti quanti la stessa cosa, ovvero a un certo punto YouTube ha iniziato a spingermi. Che è una cosa corretta, nel senso che è successo effettivamente così, ma non è gratuita. Non è successa per caso. Ecco, se analizziamo l'algoritmo e analizziamo le dinamiche di YouTube possiamo renderci conto del perché è successa quella cosa e cercare di capire come possiamo cercare di inseguire quel risultato anche noi. Adesso quindi parliamo di tutto e poi alla fine facciamo un po' di esempi pratici per capire come questa cosa effettivamente sia correlata a quello che è successo a tanti vari canali italiani e internazionali. Per prima cosa dobbiamo farci una domanda semplicissima e molto banale, ovvero qual è l'interesse di YouTube? L'unico interesse di YouTube è quello di tenere la gente sulla piattaforma il più a lungo possibile in modo da potergli mostrare pubblicità e quindi guadagnare dei soldi. Punto. Finisce qui. Quello che dobbiamo fare noi creators quindi è creare dei video che la gente abbia voglia di guardare, quindi che portino gli utenti su YouTube e che gli utenti guardino più a lungo possibile. E direi con questo, ho detto tutto, no scherzo. Allora, il fatto è, ok, abbiamo questa informazione, dobbiamo fare dei video belli e tu dirai, è grazie al caso. Come faccio? Dobbiamo fare due discorsi importanti che sono un po' slegati fra loro ma poi si ricongiungono. Il primo sono le metriche, ovvero tutti quanti i valori che YouTube tiene in considerazione per capire l'andamento del nostro canale, l'andamento dei nostri video e l'andamento di noi come creator in generale, per capire quando e se sarà mai il momento di spingere i nostri contenuti perché a lui conviene. Perché ricordiamoci che si parla sempre di quello, cosa conviene a lui. La seconda cosa che dobbiamo analizzare è quali sono i modi in cui YouTube mostra i contenuti e quindi in che modo YouTube può darti una mano a far crescere il tuo canale. La prima metrica è banale ed è quella che inseguiamo tutti, ovvero il numero degli iscritti. In sé per sé non è che sia una metrica così importante perché comunque il fatto che tu ti sei iscritto al mio canale non ti dà la certezza di vedere tutti i video che io pubblico. Molto più importanti sono gli iscritti con la campanella attivata e con le notifiche attivate sul telefono. Questo fa sì che quando io pubblico un nuovo video a te arrivi una notifica e quindi ho più probabilità che tu veda il mio video. E già che ci siamo ti ricordo che se non l'hai già fatto devi iscriverti, attivare la campanella e attivare le notifiche così quando faccio un video nuovo ti arriva. Ti lascio un secondo così lo fai, dai. La seconda metrica sono le views. Questa secondo me è sensibilmente più importante perché se io faccio un video c'è un motivo, ok? Voglio far sapere qualcosa, voglio far vedere che so fare qualcosa per farmi contattare, voglio vendere qualcosa. E questo avviene quando la gente guarda il mio video, non quando si iscrive al canale. Quindi è una metrica molto più importante. Inoltre sappiamo che se guardi gli analytics di qualsiasi canale che la maggior parte delle views arrivano dai non iscritti e non dagli iscritti. Ok, adesso passate queste due metriche che comunque in sé per sé secondo me non sono molto importanti e te lo spiego dopo perché passiamo alle metriche che sono fondamentali. Ovvero la prima, il CTR. Il CTR o click through rate è la percentuale di volte che un tuo video, quindi l'anteprima di un tuo video, viene cliccata rispetto alle volte in cui è stata mostrata da YouTube da qualche parte. Quindi i video consigliati o nelle home page di YouTube o nelle ricerche. Poi ci sono due metriche legate al tempo di visualizzazione dei video, ovvero watch time e session time. Il watch time è il tempo di visualizzazione media dei tuoi video. In minuti non percentuale e questa cosa è importante, quindi se tu fai un video di 40 minuti che viene visto 10 minuti, per YouTube è comunque molto meglio di un video di 12 minuti che viene visto 8 minuti. Perché più tempo stai davanti a un video e più pubblicità lui può metterci dentro. Il session time invece è il tempo di visualizzazione di tutti i tuoi video all'interno di una sessione. Quindi se oltre a vedere un tuo video, mediamente gli utenti ne guardano 3-4 e per ognuno ci perdono 4-5 minuti, per YouTube è grandioso. Infine c'è un'altra metrica che sono le interazioni. Che possono essere il commento, il like o le varie condivisioni. Quello che gli interessa realmente sono tempi di visualizzazione, CTR e interazioni. Questi sono i segnali che gli fanno capire se vale o meno la pena investire su di te. Tu che cosa puoi fare? Per i tempi di visualizzazione media e visualizzazione media per le sessioni, quindi watch time e session time, quello che devi fare è fare dei video che insomma si lasciano guardare per il più tempo possibile. Quindi cerca di essere poco noioso, magari puoi aiutarti col montaggio, insomma dipende che tipo di video fai. Per quanto riguarda il CTR testa tantissimo copertine e titoli e per quanto riguarda le interazioni ricordati magari durante i video di lasciare un mi piace e di lasciare un commento. Quindi se non l'hai ancora fatto ma dall'altro puoi farlo, è qui sotto. Views ed iscritti sono la conseguenza di questa cosa. Tu concentrati sul resto. Vedrai che views e iscritti arrivano. Spero, perché se no io sto facendo tutto questo per niente. E poi parliamo dell'altra cosa, ovvero come YouTube mostra i tuoi contenuti ai suoi utenti, cioè come un utente può scoprire te, i tuoi contenuti eccetera eccetera. Prima cosa, barra di ricerca. YouTube in certe cose assomiglia a un social network, ma in realtà più che un social network è un motore di ricerca. In realtà è il secondo motore di ricerca più utilizzato dopo Google, quindi insomma è un signore motore di ricerca. Quindi io ho bisogno della ricetta per fare la focaccia in casa e la cerco. Quindi ricetta, focaccia, in teglia. E mi escono tutti quanti i video. Come faccio a uscire lì? Questa è una cosa su cui un po' di controllo ce l'hai. Puoi lavorare sulla SEO, che è una cosa di cui non parliamo adesso, se no questo video diventa 7 ore e poi ti scassi le palle. Però forse avrei un watch time alti in effetti. Comunque in sostanza si tratta di cercare le parole chiave che vengono più cercate e che hanno un buon rapporto fra concorrenza e volume di ricerca. E questo lo puoi fare con tanti strumenti. Uno per esempio è TubeBuddy, che è carino, io lo uso e non è male. E ottimizzare il video, quindi il titolo, descrizione, eccetera, eccetera, per quella parola chiave. Se ti interessa parlare più nello specifico di SEO e insomma della parte più tecnica di YouTube, scrivimi nei commenti che facciamo un video anche su quello. Comunque, oltre alla SEO, perché quella è una cosa che possiamo fare un po' tutti, YouTube prende in considerazione, come abbiamo già detto prima, il tuo session time e tutti quei valori che gli danno un rating sul valore dei tuoi video, dei tuoi contenuti, sia di quello, di quel video che stai posizionando, che di tutto il resto del canale. Un'altra cosa molto importante è ricordarsi che le ricerche sono molto variabili. Facciamo un esempio pratico. Se tu fossi un parrucchiere e avessi fatto un video tre mesi fa, in cui facevi vedere come ci si taglia i capelli da soli con la macchinetta, fino a un mese fa non l'avrebbe visto nessuno, perché nessuno cercava, nella barra di ricerca, come tagliarsi i capelli da soli. Poi è arrivata questa bella quarantena. Non possiamo andare dal parrucchiere e posso stare la macchia di capelli che sembro Jimi Hendrix. No. Quindi cosa faccio? Vado su YouTube e cerco come tagliarmi i capelli da solo. Ecco che è nata una ricerca che prima non c'era. Se il tuo video fosse stato online da prima, probabilmente sarebbe stato il primo fra quelli trovati. E quindi ti saresti accorto che a un certo punto il tuo video era esploso. Ma c'è un motivo, capito? E quello è il punto. Come in tutte le altre cose, YouTube non fa esplodere un tuo video perché gli stai simpatico. O semplicemente si incrociano vari eventi per cui a un certo punto un tuo video esplode. Il secondo modo in cui i tuoi video vengono visualizzati è appunto i contenuti suggeriti. Quindi io sto guardando il mio bel video sulla focaccia fatta in casa e sotto ve ne trovo altri. Che video trovo? Altri video sulla focaccia o sulla pizza o su cose affini. E altri video non inerenti a quello che sto guardando ma inerenti a quello che io solitamente guardo. E quindi quello che secondo YouTube può interessarmi. E ancora una volta, io che cosa posso fare per finire lì? Allora, ho fatto vari esperimenti e ho guardato esperimenti di altri e ti dico che si parla molto di tag, si parla di titoli simili a quelli degli altri. La verità è che secondo me, da quello che ho visto, non c'è un modo scientifico, e per fortuna dico anche, per imbrogliare su questa cosa. I video suggeriti li suggerisce YouTube. Quello che puoi fare anche in questo caso è far sì che il tuo canale abbia tutti i vari presupposti perché YouTube decida di metterti fra i suggeriti di altri video in tema col tuo o in tema con gli interessi. Quindi, nello specifico, avere un canale che parla il più possibile di una nicchia specifica. Se io parlo di macchine da rally e parlo solo di quello, probabilmente, mentre un utente sta guardando un video di Carlos Sainz, è più facile che gli esca il mio video della recensione della Subaru Impreza che ho testato. Come ti dicevo prima, questa cosa, io la prendo come una cosa buona, non cattiva. Cioè, il fatto che questa cosa sia poco influenzabile, rende YouTube più meritocratico, non più fascista, come qualche volta sento dire. Oh no, decide lui tutto. In realtà, decide lui tutto, ma decide lui tutto in base a quello che fai tu. E quindi, insomma, semplicemente se fai video di merda, non li vedrà mai nessuno, questo sì. Un discorso simile lo possiamo fare sulla home di YouTube, ovvero io apro YouTube e mi escono dei video suggeriti. È più o meno la stessa cosa dei video suggeriti, con una variabile in meno, ovvero i video che vedrò non sono relativi a un video che già stavo vedendo, ma sono relativi semplicemente ai miei interessi. Per il resto, stesso discorso dei video suggeriti. Se, secondo YouTube, il mio canale può interessare all'utente che sta guardando in quel momento, che ha aperto la home, se ci sono tutti i presupposti, prima o poi farà dei tentativi. E fra i vari presupposti, non ti ho detto prima, ma c'è una certa storicità del canale. Quindi, ok, YouTube vede che pubblico da un bel po' di tempo, che pubblico in maniera costante, perché altrimenti non perde tempo a far scoprire un nuovo utente che ha fatto 4 video in 6 anni e magari non ne farà più, ok? Quindi, per quello anche i canali scoppiano dopo tanto tempo, magari dopo un anno, dopo un anno e mezzo, e soprattutto dopo un tot di video. Perché, oltre al discorso delle correlazioni fra i video tuoi e quindi il fatto che quando ne vede uno è più probabile che ne veda altri e cose del genere, c'è anche più probabilità che YouTube provi a darci una piccola spinta. Poi un altro modo attraverso il quale si scoprono i canali o i video sono le condivisioni esterne o le fonti esterne, quindi l'incorporamento dei video nei siti web, le condivisioni sui social, le condivisioni su WhatsApp. Tutte queste cose YouTube le vede e ne tiene traccia. E se ci pensi, per lui ha un grande valore, perché il fatto che io addirittura sto prendendo gli utenti da fuori, ok? Stavano su Facebook e li porto su YouTube, YouTube verrebbe lì e mi abbraccerebbe. Cioè, capite, è contento di questa cosa. Certo che va fatta con intelligenza. Voglio dire, se io convinco tutti i miei parenti, mandandogli dei messaggi su WhatsApp, a vedere i miei video, ok? È vero che li sto portando sulla piattaforma. Però probabilmente, col passare del tempo, se non sono in tema, non sono in target, avranno delle metriche di visualizzazione molto basse che mi abbassano la media. Quindi questa cosa non va sfruttata male, va sfruttata a nostro favore. Quindi se io ho già una pagina che parla di questo, per esempio su Facebook, e lì ho un'audience più grande, cerco di traghettare la gente da Facebook a YouTube. E allora ha un senso. Non che invito cani e porci, mandandogli messaggi su WhatsApp, e dopo tre video, che lo aprono, mettono like e chiudono, smettono di guardarli. Perché mi peggiorano solo le metriche. Stessa cosa per il prossimo modo per cui ci si può far scoprire su YouTube. Ovvero, tramite i commenti. Ora, se io scrivo un commento di gran valore sotto il video di qualcuno, ci sta che qualcuno clicchi sulla mia bella pagina e vada a vedere chi sono e scopra che faccio video, insomma, perché cliccando va sul canale. E a quel punto mi scopre, si appassiona, si iscrive, inizia a seguirmi. E questa è una cosa buona. Se tu invece sotto il video di qualcun altro scrivi iscritto ricambi, ti rendi conto che se tu fai nel tuo canale le recensioni dei mini pony, io posso pure iscrivermi, ma non guarderò mai un tuo video. E quindi in realtà si abbassa il CTR. Perché i primi video, YouTube, appena mi sono iscritto, mi dirà Ehi, guarda che il canale dei mini pony ha fatto un nuovo video. E io dirò, ah beh, sti cazzi, perché tanto non mi interessano i mini pony. Questo è il motivo per cui non devi fare questa roba. Oltre al fatto che fa schifo, non funziona. Ti abbassa le metriche, quindi non lo fare, ok? Chiudiamo facendo un po' di esempi pratici di canali che sono cresciuti molto e andando a capire cosa potrebbe essere stato. Parliamo sempre di cosa potrebbe essere stato, eh. Perché non è che lo sappiamo per certo. Però possiamo farci un'idea, appunto, perché adesso conosciamo le dinamiche. Parliamo per esempio del buon Luis, che si è sparato, direi, tipo un milione di iscritti in un anno. E se fai video su YouTube sai benissimo che non è una media normale. Analizziamo i video di Luis. Sono video piuttosto corti, ok? Raramente arrivano a dieci minuti. Pubblica spesso, ma non spessissimo. Diciamo una volta a settimana, almeno prima pubblicava una volta a settimana o cose del genere. Pubblica cose che non hanno ricerca, perché pubblica cose sue, un po' malate, comunque mi piacciono a lui. Però, 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 fa contenuti della Madonna innanzitutto. Quindi, nel senso, se ti piace quel tipo di contenuto, guardato uno e ne vuoi guardare un altro. E cerchi di scoprire chi è, e siccome dopo un po' di tempo, insomma, un bel po' di video online da guardare ne avevi. Quindi, avremo un session time piuttosto alto e magari un watch time piuttosto alto. Perché comunque, è vero che magari fa video da 3, 4, 5 minuti. Però, sai, se la gente li guarda tutti, sono comunque 5 minuti. Sta cosa del watch time, parliamone. Come ti dicevo, non parliamo di tempo in percentuale, ma è tempo in totale. Quindi, è vero che per fare un gran watch time puoi fare dei video molto lunghi o fare dei video interessantissimi e quindi la gente li guarda tutti, anche un po' più corti. Questo è quello che probabilmente succede con lui. Inoltre, i suoi video probabilmente sono andati molto virali e quindi ha portato tanta gente su YouTube per guardare i video. Un'altra cosa, senza fare un esempio specifico, ma che vedo tanto, è la crescita gigantesca dei canali di ricette in questo periodo. Anche qui abbiamo un settore che, fino a prima, aveva un volume di ricerca. Adesso siamo tutti a casa e quindi, cosa facciamo? Ci rompiamo le palle e cuciniamo. Quindi, tutti quei canali hanno avuto un volume di ricerca molto maggiore e che ha portato le onde YouTube di tutti quanti e i video consigliati ad essere molto più folti di video di ricette. Un altro esempio pratico, un canale che ultimamente ho scoperto e che mi piace molto, se non lo conosci, ti consiglio di andarlo a vederlo, è quello di Michele Molteni. Un ragazzo che fa video di vario tipo, un po' parla di, diciamo, business online, però in maniera molto leggera e molto godibile, e poi fa dei video più di intrattenimento. Si è sparato il suo bel anno e mezzo, barra due anni, per arrivare a tipo 3.000 iscritti, una fatica della madonna, poverino, ogni video si lamentava di questa cosa, facendo dei bei video, degli ottimi video. E a un certo punto è successo quello che doveva succedere, ovvero che è passato in un mese da 3.000 a 65.000 iscritti. Questa cosa ovviamente non è successa per caso, ora lui ci ha fatto anche un paio di video, ve li metto anche in descrizione, ne parla. Semplicemente è successo che in quest'anno e mezzo, due anni, lui ha girato una valanga di video, non si è fermato davanti a niente, e ha girato dei bei video, divertenti, interessanti, della lunghezza giusta, probabilmente con un buon watch time, e tutto quanto. Tant'è che i commenti sotto erano un continuo di... io l'ho scoperto che aveva tipo 3.000 iscritti e stava crescendo, cioè era appena iniziata la crescita. E tutti quanti gli scrivono, ma come mai pochi iscritti, è la classica cosa. E a un certo punto appunto è partita questa cosa, spiegava come questa cosa sia nata da due dei suoi video, che a un certo punto sono esplosi. Probabilmente che cosa è successo? Che YouTube ha preso i due video che secondo lui potevano funzionare meglio, e gli ha dato la possibilità che gli aspettava. I due video hanno performato come YouTube sperava, e quindi gli ha dato sempre più visibilità. E quindi in questa cosa ha fatto sì che i due video facessero tipo 200.000 views in pochi giorni, quando i suoi video facevano magari 1.500-2.000 views l'uno. Anche in questo caso però appunto non è successo per caso, è successo con i tempi di YouTube su un canale che aveva delle, probabilmente, delle buone metriche. Prendiamo invece un altro esempio, diverso, totalmente diverso, ovvero Will Smith, che a un certo punto ha iniziato a fare video su YouTube, sulla sua vita, sulla famiglia, fare dei vlog o robe del genere. E quello che ha fatto però è portare un pubblico che aveva già questo in piccolo, l'ha fatto anche in Italia, Emma Loru, che è un videomaker che adesso si è dato invece a YouTube. Ma che quando ha iniziato a fare video su YouTube in realtà aveva già un gran pubblico su Instagram, lui aveva già 300.000 iscritti su Instagram, quindi quando ha iniziato a fare video su YouTube aveva già un suo pubblico da spostare. Quindi partiva da un punto molto diverso e quindi la crescita in quei casi, nel caso di Will Smith ovviamente parliamo di altri numeri, ma anche Malloru ha fatto i primi 50.000 iscritti in un Amen. Parliamo di gente per cui l'algoritmo inizia a lavorare dopo, il pubblico ce l'aveva già. In più, in questi due casi specifici, stiamo parlando di gente che fa video della Madonna. Will Smith vabbè, non le parliamo neanche, giustamente, che cazzo stiamo dicendo. Però Emma Loru ha uno storytelling assurdo e allucinante, ha la particolarità di fare video col telefono e solo col telefono, eppure di tirar fuori dei video della Madonna, con un bel montaggio, un buon ritmo, lui ha un'ottima parlantina. Insomma, parliamo di video fatti bene. E niente, a me altri esempi non me ne vengono, ma ce ne sono veramente un miliardo. Quello che puoi fare è provare a prendere un canale, magari di quelli che segui, e provare a capire, analizzare i video, analizzare il piano editoriale che sta seguendo, analizzare i dati, andare su Social Blade, per esempio, guardarti la crescita, e capire dove ci sono picchi e capire da dove partiva e tutto quanto per analizzare e capire quali sono le dinamiche che l'hanno fatto crescere così tanto. Ed è una cosa che sicuramente ti può tornare utile, insomma, per il tuo canale. E con questo direi che ho tutto tutto. Scusate, oggi è un video tipo lunghissimo, mi sa, però è un argomento, secondo me, utile e interessante, e quindi spero che lo sia stato anche per voi. E ci vediamo al prossimo video, direi. Ciao!